Musica E' bello a tutti ragazzi e ben arrivati in questo nuovo video Io sono il vostro Mr.Bistecca E oggi Stemmage ci troviamo qua con la nostra carriera di obiettivi con l'Inter Raga allora abbiamo le nostre tre partite di oggi e quindi andiamo a vederci subito gli obiettivi A parte ragazzi il ventilatore che mi dispiace se lo andrete a sentire ma Raga vi giuro ci si muore senza è una roba allucinante assieme ad essere in deserto di Sara Comunque sia Allora primo match sa solo Inter obiettivi vincere e gold con il centrocampista I bonus sono il doppio allenamento a scelta e di praticamente il miglior giocatore della partita Avrà la possibilità di giocare per 5 volte consecutivamente comunque vi vedrete dopo Nel caso in cui dovessimo riuscire a fare qualcosa in centrocampista I malus sono invece no al migliore della nostra squadra nel prossimo match e il turnover di livello 2 Poi il secondo match Inter Lazio obiettivi vincere e rete inviolata I bonus sono doppio allenamento per il migliore in campo e mettere incedibile il miglior difensore della partita Questo ragazzi perché appunto siccome si avvicinava al mercato vorrei dare tipo un premio ai giocatori Che sono dimostrati più validi e metterli incedibili e farli continuare con noi I malus invece sono il cambio di modulo forzato e meno allenamenti di livello 2 Quindi allenare massimo 3 giocatori E per Fiorentina Inter invece abbiamo l'obiettivo di vincere e di cercare di vincere con più due reti di scarto E abbiamo sempre doppio allenamento a scelta e invece di mettere incedibile il nostro migliore centrocampista in campo I malus invece sono meno allenamento di livello 1 quindi massimo 2 allenamenti E no al top player per la prossima partita della scorsa parisa quindi di Fiorentina Inter Proprio perciò torniamo su FIFA Dunque proseguiamo verso il primo incontro di oggi ossia quello che ci vedrà affrontare Il Sassuolo giochiamo di sabato 23 dicembre Si respira quest'aria natalizia ragazzi e speriamo che i nostri giocatori non siano già andati in vacanza o la testa Perché se no la vedo bigia Allora vediamo un pochino Sì aspetta ti faccio giocare Berni aspetta Lautaro vorrebbe giocare invece vediamo Riesco di perdere due giocatori Miranda e proprio Berni Questo non credo Ho rinnovato ragazzi il contatto solo a Miranda perché Stonefamone ha voluto oltre che un aumento di stipendio anche Un bonus per l'ingaggio e praticamente ci ha Eliminato tutti i nostri bei soldini Proprio siamo con 0-0 Proprio non ci abbiamo più un centesimo L'unica cosa di positivo che però sono riuscito a tirar fuori è una clausola recessore da 15 milioni per andarlo a comprare Che ragazzi è comoda perché ci dovessero fare un'offerta in questa azione di mercato comunque sia Ci prenderemo meno Ma alla fine neanche più di tanto meno Perché comunque è un giocatore che comunque il suo valore sta calando Anche per l'età e tutto E se invece lo dovessimo vendere per esempio alla prossima sessione di mercato E comunque avrebbe già un'altra età Magari anche l'overall potrebbe diminuire A 15 milioni potrebbe essere comunque un'ottima cifra E Tommasone e Berni per ora se ne sta lì Andiamo dunque alla partita Subito andiamo a sistemare le magliette Solito 4-2-3-1 con il Porta Andainovic Indipesa Cansello Romagnoli, Skrina Redalbert Centrocampo Allan e Rafinha Anche se non è proprio nel suo ruolo Esterni Persic e Chiesa Trequartista Brignola E davanti il Bomberone Maurito Icardi Quindi ragazzi pronti andiamo Ed eccoci qua dunque dal Mapei Stadium di Reggio Emilia Per l'incontro di Serie A tra Sassuolo ed Inter Partita ragazzi importante Il Sassuolo è una buona squadra In casa spesso e volentieri riesce ad ottenere dei buoni risultati Forse hanno una rosa un pochino indebolita rispetto agli ultimi anni Però comunque sia hanno degli ottimi giocatori in campo Su tutti ovviamente direi Berardi, Babacar Anche comunque una buona rosa ragazzi Dovremmo stare molto attenti e impegnarci come sempre al massimo Sono anche settimi classifica quindi Ci vorrà un doppio impegno Perciò dai speriamo bene Icardi Tiene palla Maurito Scambia con Perisic Largo Trova Chiesa all'interno dell'area E c'è il gol del vantaggio dell'Inter Con Federico Chiesa 1-0 Tredicesimo minuto Un po' a caso ragazzi Ma fortunatamente siamo passati In vantaggio proprio al limite del fuorigioco Dai, meno male, meglio così Albert in pressing Parte il traversone Attenzione a Babacar Prova Ma non va Appoggia da Alan Trova subito Brignola Brignola per Perisic in area Il piattone 2-0 Ivan Perisic Su assist di Brignola Al 42esimo Troviamo il raddoppio Molto bravo però ragazzi Icardi Andare a recuperare Il pallone Subito Alan Brignola Perisic E quindi Siamo avanti Per la seconda volta Chiesa Prova ad avanzare Daicardi Dalla porta sul destro Maurito All'occasione per tirare Consigli Finisce qua la partita ragazzi Un 2-0 Veramente tranquillissimo Poche occasioni Per entrambe le squadre Il risultato È anche abbastanza netto Comunque 2-0 Di scarto 2-0 Netto Però Boh Non abbiamo fatto Proprio il massimo Secondo me I giocatori da allenare Ragazzi Sono questi Il 2-allenamento A scelta È per Lautaro Poi Il resto Sono i soliti Fortunatamente Stiamo comunque Continuando a vincere Quindi non abbiamo Restrizioni Per quanto riguarda Gli allenamenti Meno male ragazzi È una cosa molto positiva Lautaro è anche contento Perché comunque Sia l'abbiamo fatto giocare Raga Tutto positivissimo Bene bene Speriamo di continuare Il più possibile così Inoltre C'è da dire che Il migliore campo Nello scorso match È stato Secondo ragazzi Le valutazioni Perisic E quindi Perisic Giocherà Da titolare Le prossime 5 partite Chiaramente ragazzi Nel caso in cui fosse Stanco Spulso Infortunato Ovviamente Non giocherà Però Le faremo recuperare Quindi comunque sia Appena abbiamo l'occasione Di farlo giocare Perisic lo mettiamo Sempre in campo Comunque sia La sua Cioè Anche se tipo Non l'avessimo voluto schierare Lo buttiamo in campo Lo stesso Comunque Sistemiamo le mallette Per il match Contro Lazio Per questo match Formazione ragazzi Praticamente più o meno Sempre la stessa Unici i cambi In sostanza Romagnoli Fuori Dentro Miranda E fuori Aldane Dentro Barella Per il resto Tutto Standard Quindi Andiamo Ed eccoci qua dunque Da San Siro Per l'incontro di serie A Tra Inter E Lazio Partita importante ragazzi Niente affatto scontata Giochiamo sì in casa Giochiamo contro Indubbiamente Una delle migliori Formazioni Del campionato Lazio che ha Soprattutto ragazzi Un attacco Veramente Pazzesco Immobile Felipe Anderson Un ottimo giocatore Come Luis Alberto Tanti talenti ragazzi La davanti In generale Comunque sia Direi appunto Un'ottima formazione Quindi Sarà necessario Metterci Il massimo Della concentrazione Per affrontare Questa partita E dunque Carichi pronti E andiamo Portoghese Lo tiene Radu Ma sempre cancello Col pallone Salta Radu Prova il cross Spunta Perisic Madonna che parada Prenuamente da Barella Movimento di Icardi Lo vede Barella Parte il tiro di Icardi E siamo avanti 1-0 Maurito Icardi Ci porta In vantaggio Al decimo minuto Di gioco Con una cecchinata Ragazzi Mamma mia Dove l'ha messa Tac Palla sul destro Tiro a effetto Pasi nel set Stragoscia Svenuto in terra E siamo avanti Arriva Barella Barella Per Dalbert Largo Perisic In area Con sinistro Fuori di un niente Da chiesa Filtrante Per cancello Parte il cross Di prima Icardi Al volo Ma come stiamo giocando Ma cosa siamo Il Barcellona Non lo so ragazzi Mamma mia Calcio spettacolo Qua a Milano 2-0 Doppietta Del capitano Mauro Icardi Questa è stata un'azione Veramente Paurosa Tutta di prima E poi Icardi Si coordina Col sinistro Che non è anche il suo piede Spara una cannonata Questa vera e propria Stragosce ragazzi Non ci può arrivare mai In vita sua Ed è 2-0 Appunto Cerca di ricoprire Palla Qua era Ciro Immobile Fatta Traversione Attenzione Caicedo La riapre La Lazio Con la rete Di Felipe Caicedo L'ex Attaccante Dell'Espagnol Trova Il gol Del 2-1 Per il bianco Celesti Errore qua ragazzi Dai nostri Qua Skinner ha provato Ricoprire Palla su Immobile Però è stato più bravo Il giocatore Della Lazio Poi insomma Gran cross Caicedo di testa Accorcia le distanze Marruzic Prova il cross C'è Immobile Pallone che resta Lì Ramsey A volo ancora Clamoroso Il pareggio Ragazzi Della Lazio Incredibile Gol di Luk Lukaku Ma che cazzo Ci faceva Lukaku Lassuno Lo sa nemmeno lui ragazzi Eh Sfortunati Qua siamo stati Veramente sfortunati Perché Hanno vinto 97 rimpalli Questi della Lazio Poi La palla Si è trovata Si perde di Lukaku Che chiaramente Da lì non può sbagliare Però Ci dobbiamo sbagliare Perché da 2 a 0 A 2 a 2 C'è da spararsi in testa Dai Dalbert Ancora Icardi Tiene il pallone Maurito Aspetta Rafinha Lo trova Rafinha col mancino E torniamo subito avanti Con la rete Di Rafinha Alcantara Inter 3 Lazio 2 Grandissimo gol Per il Rafi Ragazzi Che trova un angolo Impossibile Che bombe Grande Rafinha 3 a 2 Di sempre Rafinha Col mancino Sfiora il palo Ramsey Cerca di tenerlo lì Cerca di avanzare Ramsey Trova immobile Il palo E dunque ragazzi Finisce qua La partita Inter 3 Lazio 2 Pensavo fosse un po' più facile Ma Comunque sia È andata bene Non che gli serva Particolarmente ragazzi Ma siccome il migliore in campo È stato Rafinha Nella scorsa partita Per le valutazioni di FIFA E Li tocca a lui La doppia sessione di allenamento Vabbè Con questo Volendo L'altro È arrivato a pari merito Con i Cardi Però Il pallone Diciamo accanto Ce l'aveva la Finna Comunque sia Neanche i Cardi L'abbia fatto comodo Una doppia sessione di allenamento Perché Allenare questi giocatori Non ha un grandissimo senso Comunque Va bene lo stesso E dunque Anche se In periodo di calcio Mercato Ma Terzo ed ultimo Match di oggi Quello contro La Fiorentina Quindi andiamo subito A sistemare le magliette E per affrontare la Viola Scendiamo in campo Con il nostro 3-4-2-1 Con il Porta Andanovic In difesa Bonifazze Scrinner Romagnoli Centrocampo con Barella E Allan Esterni Perdi Cercare a Mo E dietro il Bomberone I Cardi Troviamo Politano E Lautaro Martini Soprattutto ragazzi Tenere fuori Chiesa Per rispetto Verso i tifosi Della Fiorentina Anche se comunque Sono nostri avversari Ma comunque L'ho voluto lasciare Fuori dal campo Il Dodo Ex Talento Però è in panchina Non si sa mai E quindi Andiamo alla partita Ed eccoci qua Ritrovati Dall'Artemio Franchi Di Firenze Per l'ultimo incontro Di oggi Sempre di Serie A Tra Fiorentina Ed Inter La Viola ragazzi È una squadra Come la Lazio Molto forte Che punta Alle posizioni Più alte In classifica Indubbiamente La Viola Punta Quanto meno Ad un piazzamento In Europa Hanno degli ottimi Giocatori Su tutti direi Il ciolito Simeone La davanti Che potrebbe Indubbiamente Impensirirci E quindi Dovremmo stare Molto attenti In fase difensiva Però Dobbiamo ragazzi Anche impegnarci La davanti Per ribuzzare dentro Più gol possibile E portarci a casa Il match E quindi pronti Andiamo Sempre Icardi Ancora All'anno La deviazione Padone che esce fuori Politano Varella Col destro Il cross Lautaro Martínez 1-0 Inter Quarto minuto E siamo subito In vantaggio Grazie Alla rete Del solito Lautaro Martínez A voto Qua la marcatura Dei viola Non hanno potuto Niente Contro il nostro Lautaro Ragazzi Rivediamo È stato bravo Lautaro Si è fatto spazio In mezzo A due È andato a staccare Prima di tutti Colpo di testa E 1-0 E avanti Da Lautaro Lautaro Fettante per Caramò In area Col destro E siamo Avanti sul 2-0 Con la rete Firmata da Jan Caramò Al trentunesimo Minuto Di gioco Bellissimo Gol Ragazzi Questo tutto In velocità Qua Caramò Appoggia Da Lautaro Lautaro Gli dà una palla Filtrante Fantastica Caramò Trova il giusto Angolo E quindi 2-0 Skinner Impressi in su E6 Rippallone Messo indietro Attenzione Badel Tocco per Il ciolito Simeone Credo ragazzi Ora comunque Vediamo che è il Marcatore Si è proprio il ciolito Simeone Quindi Fiorentina 1 Inter 2 Riaprono Viola Speriamo che non sia Un parto Come prima Contro la Lazio Perché Prima siamo stati Anche un po' Fortunati ragazzi Vediamo adesso Di conquistarcelo Effettivamente Sta vittoria Siamo rimasti Un po' fregati Comunque Dall'intervento Prima del nostro Difensore Credo di Skriniar Vabbè comunque 2 a 1 Caramò Prova a lanzare Lautaro Martinez Gran palla per Lautaro In area Lautaro col destro Guarda la uscita Sta palla Allan Che pesca Subito Lautaro Martinez Prova ad accentrarsi Lautaro Vede Caramò col destro Altro clamorioso errore Lautaro Vede Il movimento Di Politano E accelera Politano Fino in fondo Palla sul destro Prova il tiro Mamma mia Sportello In campo Lo svizzero E accelera Ramo Fleure Fino in fondo Parte il cross C'è Icardi Di testa Pallone che resta lì Ancora deviato Ok ragazzi 3 a 1 E va bene così Gol più brutto Credo che non l'abbia mai fatto Nessuno Nella storia del calcio Ma Va bene così Cosa diavolo è successo No Cioè non ho capito ragazzi Qua Icardi di testa Sportiello La fara di Pede Se la butta ancora addosso Poi Perisic Palla che carambola In mezzo Pede di Credo Bir No di Sì Biraghi Non lo so Di Pezzella Poi si impenna Napolitano di testa Va bene Finisce dunque qua la partita Intervate Fiorentina Con il punteggio Di 3 a 1 E stavolta Direi che abbiamo fatto Veramente un'ottima partita Dunque Signore Direi che per oggi Si possa anche Chiudere qua Il video E abbiamo ragazzi Un'altra volta Il doppio allenamento Scelta Quindi E torniamo su vecchi passi Rimettiamo qua Brignola E poi rimettiamo di là Il doppio allenamento Per Lautaro Allenamenti Molto molto positivi E dunque ragazzi Abbiamo anche sbloccato Il secondo bonus Che era legato A due gol di differenza rete E quindi Dobbiamo andare a mettere Il miglior centrocampista In campo Come Incedibile Il migliore centrocampista In campo ragazzi È stato Caramò Ed è un problema Perché Caramò Non è nostro Se non mi sbaglio Dov'è 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 Ma raga È nostro No Infatti E Allora niente Raga E purtroppo Caramò Non lo possiamo mettere Incedibile Quindi Obiettivo In un certo senso A vuoto E dunque Guardiamo un attimo I tabelloni Perché ci tengo Prima di chiudere Perché Oggi ragazzi Abbiamo fatto veramente Delle belle cose Abbiamo sempre vinto E siamo sempre là davanti Con tutte le squadre Che hanno recuperato Tutte le partite Che dovevano giocare Siamo Lassù Dopo 20 partite A 46 punti Con 14 vittorie 4 pregi E 2 sole sconfitte E la Juventus Momentanamente È a meno 3 La Roma a meno 5 E Napoli a meno 10 Ragazzi Insomma Abbiamo preso Già un po' di distacco Da diverse squadre Al momento È una lotta a 3 Tra noi La Juve E la Roma Perché Ecco Siamo tutte lì 5 punti di distanza Non sono tantissime Quindi Dobbiamo continuare A lavorare così E a macinare punti Prossimi match Che andremo ragazzi A simulare E saranno Gli ottavi di Coppa Italia Conto il Flosinone Non ci dovrebbero essere problemi Poi dobbiamo Purtroppo simulare La Roma E questo Mi scoccia un po' Perché La Roma comunque Sarebbe stata una bella partita Però ragazzi C'è il calcio mercato Preferisco farlo Tutto in una volta Solo E non farlo solo Di 2 ore E poi abbiamo Anche la Spada Una partita che non ti dovrebbe Sare tranquilla Ma comunque Metteremo Lo stesso Gli obiettivi Anche se Saremo in periodo Di calcio mercato Questo Non vuol dire niente E anche se comunque sia Andremo a simulare Non cambia niente E ovviamente Torneranno anche Gli obiettivi di mercato Saranno Pochi E più fattibili Visto che Il nostro budget Credo sia veramente È inesistente ragazzi Non abbiamo budget Però vabbè Qualcosa ci inventeremo E dunque Per oggi Finiamo qua Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Dovete Che ci possiamo Vedere domani Con un nuovo video Buona Grazie a tutti Grazie a tutti.